Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Manuela Soccol, titolare dell'omonimo studio e oggi vi do il benvenuto ad un'altra puntata del Rischio Legale. Il tema che desidero trattare con voi oggi è di fondamentale importanza per tutto il tessuto imprenditoriale, ovvero Industria 4.0 e la necessità per l'imprenditore di rimanere competitivo tramite la digitalizzazione. La digitalizzazione è fondamentale in questo attuale momento storico proprio per garantire alle imprese di rimanere competitive. Ma a che punto è la digitalizzazione in azienda? Un interessante studio condotto da Intesa San Paolo insieme a SMACT, che è uno degli otto competence center italiani, ha dato uno spaccato dell'industrializzazione e della digitalizzazione nel nord-est. In particolare è risultato che le aziende che hanno risposto a questa intervista, una su due e per le aziende più grandi ben il 75%, hanno effettuato investimenti nell'industria 4.0, in particolare nella robotica, nel cloud computing, nell'integrazione delle informazioni, per arrivare poi anche alle stampanti 3D. Quindi il tema è ormai trasversale e le aziende che ancora non ci hanno pensato devono necessariamente approcciare questi temi proprio per rimanere sul mercato. Qual è il ruolo del legale in tutto questo? Il legale è che come noi affianca gli imprenditori in questa attività. Prima di tutto è permettervi di affrontare in sicurezza, anche dal punto di vista legale, queste tematiche. Sappiate che introdurre sistemi di digitalizzazione, quali ad esempio quelle di macchine intelligenti, interconnesse, che comunicano dati, sistemi IoT, fanno sì che vi possa essere la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore. Quindi prima di tutto vi è una tematica giustolavoristica trattata nel nostro sistema legislativo dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Ma non solo tematiche giustolavoristiche, ma anche tematiche inerenti al trattamento dei dati personali, ovvero i dati dei nostri lavoratori e collaboratori che vengono registrati e comunicati a sistemi gestionali. Quindi, proprio per questo, per venire incontro alle vostre esigenze, abbiamo pensato di dedicare un approfondimento scritto, che pubblicheremo lunedì, per dare ancora i spunti su queste importanti tematiche. E sappiate che comunque l'integrazione digitale va affrontata con dei professionisti e che noi siamo qui per supportarvi dal punto di vista legale. Buona giornata!